E insomma, oggi mi ha toccato da fare la spesa. Mentre ti prepari a varcare la soglia di casa, vieni fermato da un perentorio. Do cazzo vai? A fare la spesa, me lo ci hai detto tu. E beh, cusci, ma si matto? Cusci come? Mettete la mascherina e gli guanti, prima di subito. Oh, vago alla conad, mica a Fukushima. Camina, coprete che le primi che more e li faci lui come te. Facilù vuol dire il superficiale, diciamo, che si comporta. Facilone. Facilone, sì. State a due metri da tutti e non parlare con gli sciù. E così esce a incontrare il deserto intorno a te. Te metti disciplinatamente in attesa fuori dal supermercato. Foderato de perso, vuol dire pieno di gente. Pare che ci sta lo gran premio degli garelli. In pole position andò delle gerque. Vasite Cote che è pronto a sfruttare la scia della terza posizione, ma deve guardarsi dall'arrembante Peppu della Viaggiola. Mentre tu, per un errore in qualifica alla curva del tabaccaio, ti devi accontentare della terza fila. Il pensiero che quel minimo di vita sociale sia un piacere ti abbandona al terzo sguardo incagnesco che incroci. Appena qualcuno sente le rode del lucarello che si avvicina, si gira con l'occhi da matto di Jack Nicholson su Shining. A un certo punto entra uno con una mascherina con i filtri e suscita sospiri di ammirazione. Guarda, senti Borbortare, esatto. Guarda, ha già la FFP3. Do cazzo la pigliata? Desti tempi fa più scena con la FFP3 che con la Porsche. Torni a casa a carico come un sommaro. Non fa in tempo ad aprire la porta che ti dice Scarca la spesa, lavati subito le mani. Terlai le ma, scappi e ti dice Mi pare che ci sei messo troppo poco. Hai lavato bene? Sì, ne. Com'è andata? T'ha sputato qualcuno? Ma perché? Perché me devi sputare qualcuno? Eh, non si sa mai. Allora, adesso disinfettiamo la spesa. Che facciamo? Disinfettiamo la spesa. Laviamo tutte le confezioni. Che ce sai chi la toccate? Lo dice pure Vurioni. Il proprio lavoro. Il professor Vurioni. Dopo che, percosso e attonito, passi l'igienizzante sopra gli varattoli dei pumidori e dei borlotti. Dopo che, te dice Ora c'è solo da disinfettare le superfici dove si è pogliato la spesa. Poi lava di nuovo le mani, ovviamente. Ovviamente. Me sai che l'u-virus se ria me dro a mortu.